Avvocato? Dov'è questo? Cuzzalle! No, v'è questo? Sguardo! Dove è che mi occupa da solo? Aspetta! Fermi! Ma non mi merda, eh! Non è male se siete in guerra! Oh, me c***o! Vincate! Vincate! Vincate, vincate! 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 Aspetta! Cosa è la parola! Sì, sì sì! Siamo in giù a mano, dai. Siamo in giù a mano. No! No! Alla l'ho! Non lo so! Alla l'ho! Alla l'ho! Oh! Stupi! Bravo! Stupi! Stupi! Sì. 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 No, non, 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 non. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!